buongiorno benvenuti nella lezione numero 43 oggi terminiamo l'algoritmo di da extra che è uno degli algoritmi se non l'algoritmo più importante di questo corso quindi l'abbiamo visto la settimana scorsa ieri abbiamo parlato di code con priorità e oggi metteremo le due cose insieme per cercare di arrivare ad una complessità computazionale che sia degna di questo algoritmo che abbiamo visto la scorsa settimana basarsi sul lemma di da extra quindi l'emma omonimo dello stesso algoritmo stesso scienziato da extra è un ingegnere un ingegnere informatico molto famoso che ha fatto tante cose nell'informatica dato tanti contributi uno di questi contributi è appunto il suo algoritmo sui grafi sui cammini minimi richiamiamo brevemente l'emma che ci dice che nel costruire l'albero dei cammini minimi quindi durante la costruzione quindi un algoritmo iterativo a ogni interazione dobbiamo scegliere di tutti gli archi che connettono l'albero in cui ci troviamo che abbiamo già costruito parziale dei cammini minimi verso tutti i nodi raggiungibili da quella da quell'albero di tutti questi archi che connettono quindi l'interno con l'esterno dobbiamo scegliere quello che minimizza praticamente la distanza che arriva dalla sorgente a quel nodo passando dall'arco che stiamo considerando qui dobbiamo minimizzare il tempo di percorrenza se consideriamo un grafo stradale dalla sorgente per arrivare al nodo che stiamo considerando attraverso quell'arco quindi l'algoritmo è la banale applicazione iterativa del dell'emma di da extra quindi in realtà è il lema di da extra che ci dà l'algoritmo e purtroppo però questo algoritmo dicevamo a costo m per n perché perché l'albero dei cammini minimi coinvolge tutti i vertici del grafo non nel caso peggiore proprio coinvolge tutti i vertici del grafo perché abbiamo detto in una precedente lezione che non possiamo risolvere il problema di trovare il cammino tra una sorgente ed una destinazione gioco forza siamo costretti a trovare i cammini minimi tra una sorgente e tutte le destinazioni quindi tutti i nodi del grafo pertanto dobbiamo calcolare l'albero dei cammini minimi verso tutti i nodi del grafo è inevitabile pertanto il nostro ciclo che di costruzione dell'albero dei cammini minimi avrà n iterazioni c'è niente da fare quindi n iterazioni ciascuna iterazione dobbiamo trovare l'arco incidente sull'albero attuale dei cammini minimi che minimizza la quantità dell'amma di da extra ma chissà quanti archi ci sono incidenti nel caso peggiore potrebbero essere tantissimi pertanto a ogni passo potrei anche considerare purtroppo tutti gli archi del grafo perché magari tutti gli archi del grafo o la maggior parte di essi incide sul vertice in cui ci stiamo che stiamo considerando pertanto n al di fuori m al di dentro la compressità è o di m per n che è parente a livello asintotico di quella di bernard ford quindi al momento questo non è un algoritmo efficiente abbiamo fatto gli esempi abbiamo detto che la tecnica gridi eccetera eccetera ora l'argomento di oggi è come è possibile usare le code con priorità per diminuire la compressità computazionale di da extra che poi quello che ha fatto da extra c'è l'algoritmo di da extra quando è stato proposto in origine già erano noti quindi sono stati usati appunto per costruire la soluzione che sto per spiegarvi allora l'idea è che a ogni passo quindi a ogni passo di iterazione come nelle ma di da extra anziché andarmi a controllare tutti gli archi che incidono su questo albero ogni volta e ogni volta e ogni volta l'ideale è tenere questi archi gli archi incidenti sull'albero sull'albero dei cammini minimi ordinati già ordinati per costo costo pari a quello della malità extra dsu più v di uv cioè il costo che va dalla sorgente al modo che sto considerando passando per l'arco che connette l'interno con l'esterno quindi l'idea è di mantenere questi archi che devo esaminare per trovare quello migliore li mantengo in una coda con priorità una coda con priorità è tale che se la priorità associata a ogni arco è esattamente la quantità che io voglio minimizzare di conseguenza potrò estrarre l'arco di costo minimo da questa coda con priorità l'arco che è di costo minimo cioè che avrà la priorità minima ovvero più importante in questo caso quindi questo è un mini giusto per intenderci rispetto a quello che abbiamo detto ieri ogni volta che io estrago quello di costo minimo beh è quello che rispetta le malità extra quindi è quello ottimo quindi va tutto bene allora mi devo soltanto chiedere quanto costa questa coda con priorità beh estrarre un arco di costo minimo estrarre il minimo da un mini ip costa logaritmo in base 2 numero di elementi dell'ip quindi abbiamo detto ieri n però attenzione quell'n era generico e nel numero di elementi dell'ip ora siamo sui grafi e nella nostra convenzione n numero di nodi m numero di archi abbiamo detto che nella nostra coda con priorità noi mettiamo gli archi quindi è m il numero di elementi dell'ip pertanto estrarre il minimo costa logaritmo in base 2 di m vi ricordate come si fa estrarre il minimo si deve copiare il minimo che sta nella radice nella foglia in basso a destra a questo punto si estrae si elimina perché una foglia e la foglia che era stata copiata sostituita con la radice viene fatta scendere attraverso un movipasso vabbè l'abbiamo detto ieri comunque questo è logaritmo in base 2 di m perché appunto il movibasso fa attraversare in altezza tutto l'albero tutto l'ip pertanto nel caso peggiore ovviamente pertanto l'albero è alto logaritmo in base 2 di numero di elementi m quindi logaritmo in base 2 di m pertanto se io dovrò estrarre tutti gli archi e ogni estrazione è logaritmo in base 2 di m il costo totale sarà logaritmo in base 2 m logaritmo in base 2 di m vediamo perché allora devo estrarre e per n volte perché sono n le estrazioni per costruire l'albero dei cammini minimi l'albero fatto di n meno 1 archi quindi sono n meno 1 va bene diciamo n è un asintotico questo n estrazioni quindi n logaritmo in base 2 di m perché ogni estrazione costa logaritmo in base 2 di m e questo è un dato di fatto poi oltre estrarre noi gli archi dobbiamo anche inserire c'è ogni volta che noi scopriamo degli archi li dobbiamo inserire nel nostro nella nostra coda con priorità quanti archi ci sono m quindi m inserimenti quanto costano inserimento ricordandoci che abbiamo fatto ieri ip binari l'inserimento costa sempre logaritmo in base 2 di numero di elementi quindi n logaritmo in base di m più m logaritmo in base 2 di m abbiamo dimostrato a suo tempo all'inizio dei grafi che m è sicuramente maggiore di n sicuramente è compreso tra n meno 1 quindi in quel caso no però in generale in tutti gli altri casi sì fino ad n quadro in generale m è più grande di n asintoticamente parlando pertanto diciamo che il costo totale è m logaritmo in base 2 di m abbiamo migliorato un po le cose siamo passati da m per n a m logaritmo in base 2 di m vediamo se possiamo fare un po meglio in realtà sì perché possiamo ridurre gli inserimenti da m archi che inseriamo nella nostra coda con priorità a soli n perché seguitemi perché l'albero dei cammini minimi per costruzione in quanto albero non può avere più di n meno 1 archi questo che significa significa che nella nostra coda con priorità che al momento contiene m archi siccome soltanto n meno 1 sono quelli buoni ci saranno m meno n cioè rimanenti archi cattivi archi non buoni archi di costo non minimo che noi purtroppo dentro la nostra coda con priorità mettiamo e questo è un problema doppio sia perché le inseriamo degli archi che non ci serviranno e quindi facciamo degli inserimenti inutili sia perché la nostra coda con priorità è grande è grande potrebbe essere grande n meno 1 ma in realtà siccome ci mettiamo pure degli archi non ottimali sarà grande m quindi doppio spreco e allora vediamo un po che possiamo fare vabbè a conferma di ciò questo è un ulteriore rafforzamento di quello che ho detto se nella coda con priorità abbiamo in questo momento due archi due archi che connettono l'albero attuale parziale con l'esterno uno che sta di qua con v che sta al di là e u2 che sta di qua con lo stesso v che sta al di là di questi due archi sicuramente solo uno finirà nell'albero dei cammini quindi è ovvio è intuitivo il fatto che gli archi totali non sono tutti quelli che mi servono ma a me servono soltanto una piccola parte di quegli archi appunto n meno 1 quelli che faranno parte dei del cammino minimo quindi non ha senso fare una coda in realtà anche se l'abbiamo fatto ma non ha senso fare una coda di m archi perché ci sono tanti archi m meno n che non servono proprio a niente allora continuazione dell'idea che poi è stato questo un articolo che è stato pubblicato a valle dell'algoritmo di da extra immediatamente successivo se abbiamo un arco che già in coda ok e stiamo analizzando nel senso che abbiamo scoperto un altro arco che ci porta alla stessa destinazione quindi abbiamo una coda che contiene degli archi nel frattempo stiamo scoprendo altri archi e abbiamo scoperto un arco che ci porta alla stessa destinazione a questo punto possiamo fare un confronto cioè possiamo dire ma guarda per arrivare a v tramite u2 rispetto a u1 conviene u2 cioè l'arco u2 v è più conveniente rispetto all'arco u1 v perché è più conveniente perché minimizza la distanza delle mani da extra quindi abbiamo trovato una scelta migliore u2 v che stiamo scoprendo adesso stiamo analizzando mentre c'era una scelta che avevamo fatto magari precedentemente che adesso non è più la migliore quindi come possiamo a come possiamo aggiornare la nostra struttura dati per tenere conto di questa scoperta l'idea è quindi invece di mantenere tutti gli archi nella coda siccome a me quello che interessa è arrivare a v nel minor tempo possibile questo ovviamente per ogni nodo v che sta al di fuori della della dell'arbero i cammini minimi quindi ce ne saranno tanti di nodi di v tutti in pratica all'inizio soltanto la sorgente poi quelli connessi alla sorgente poi quelli connessi a quelli connessi alla sorgente alla fine in questa coda se mantengo una coda di vertici e non di archi tutti i vertici centreranno ma non è un problema perché i vertici sono n sono pochi quindi se mantengo una coda di v quello che posso fare a a ogni vertice gli associo eh questa quantità cioè la quantità migliore la distanza più breve che in quel momento io so aver scoperto eh fino a quel momento io so che per andare a v ci vuole una certa distanza un certo tempo di percorrenza è una stima è una stima inizialmente per eccesso infatti queste di adesso sono diventate delle di grandi perché non è più questo il lemma di da extra strettamente applicato ma è un scoprire eh gli archi uno alla volta e mano a mano aggiornare le distanze un po' come facevamo in belmanford cioè se troviamo una scelta migliore aggiorniamo la nostra scelta vecchia con la scelta migliore però questo lo stiamo facendo comunque nel contesto di da extra perché stiamo costruendo l'arbreo dei cammini minimi in maniera iterativa quindi l'idea è nella coda mantengo i vertici e per ogni vertice gli associo una priorità una priorità che più piccola è meglio è quindi un mini di nuovo la priorità è la distanza che c'è per arrivare a un nodo intermedio che sta dentro l'albero più l'arco che mi porta verso quel nodo ora non è importante sapere qual è il nodo che mi porta al v l'importante è sapere quanto ci metto per arrivare a v quindi anziché memorizzare gli archi me ne frego di u1 e di u2 mi interessa solamente la distanza da s a v quindi la stima della distanza da s a v quando trovo una strada migliore significa che devo diminuire questa priorità che sta su v questa diminuzione nella coda con priorità si fa con di crischi quindi di crischi e in crischi sono i metodi per rispettivamente diminuire e aumentare la priorità associata ad un elemento della coda quindi mantengo i vertici anziché gli archi nella coda che quindi verrà passare a più n elementi perché sono n i nodi del grafo se abbiamo trovato un arco migliore c'è un arco che fa sì di aver minimizzato la distanza dalla sorgente a quel nodo v abbiamo trovato una strada migliore allora facciamo un di crischi pari alla differenza tra quella che era la vecchia distanza e quella che la nuova distanza quindi abbiamo guadagnato dieci minuti abbiamo trovato una strada migliore e diciamo appunto che per arrivare a v adesso ci vogliono dieci minuti in meno rispetto a prima ecco perché questa è una differenza ok quindi il vantaggio di questa soluzione è che la nostra coda con priorità adesso ha solamente n elementi pertanto qualunque operazione faremo inserimenti eliminazioni e estrazioni saranno operazioni su una coda di n elementi non più di m e quindi i logaritmi in base 2 saranno sempre logaritmi in base 2 di n e non più di m ovviamente n è molto più piccolo in generale di m quindi questo ci fa comodo allora qual è l'algoritmo di da extra finale con la coda con priorità quindi ci sono due versioni di da extra quello naif diciamo che sfrutta solo il lemma di da extra però ha una complessità ovviamente paragonabile al bel manford quindi non si usa quell'algoritmo a che serve quello serve per illustrare il funzionamento di da extra attraverso il lemma di da extra ma in realtà conviene nell'usare da extra usare una coda con priorità e quindi questi sono gli ingredienti del nuovo algoritmo di da extra sono più o meno gli stessi di prima se c'è in più una coda con priorità abbiamo l'albero pazziare dei cammini minimi quindi nelle slide indicato in nero cioè quello che stiamo costruendo in questo momento la frontiera indicata in rosso cioè tutti i vertici v che non sono nell'albero dei cammini minimi che stiamo costruendo ma che possono essere raggiunti attraverso un solo arco quindi questa definiamo frontiera vedete posso raggiungere con un arco con un arco con un arco questi tre nodi ma questo nodo qui servirebbero due archi quindi no quindi attenzione perché quando abbiamo provato insieme a voi a eseguire da extra pure c'era questa incertezza ricordate di questa cosa questo vale anche per da extra tradizionale da extra fa un passo alla volta quindi soltanto un arco alla volta viene considerato non posso considerare nodi che distano due archi dall'albero parziale e poi c'è l'albero t cappello che contiene sia i nodi dell'albero dei cammini minimi sia i nodi della frontiera e alla fine avremo che la nostra frontiera si annullerà perché avremo coperto tutti gli archi e quindi l'algoritmo terminerà quando l'albero dei cammini parziali avrà la stessa cardinalità in nodi dell'albero che contiene anche quelli della frontiera quindi la frontiera si annullerà questo è la conseguenza poi abbiamo il solito vettore delle distanze questo è un algoritmo che calcola si chiama sorgente singola cioè le distanze da s a tutti gli altri nodi inizialmente sono inizializzati a più infinito quindi abbiamo il vettore delle distanze tutti più infiniti tranne ss zero la distanza da un nodo a se stesso abbiamo l'albero t cappello che sarebbe l'albero dei cammini minimi in più che contiene anche la frontiera inizialmente questo è il solo nodo sorgente poi abbiamo la coda con priorità la coda con priorità mantiene i vertici irraggiungibili dall'albero dei cammini minimi quindi corrisponde la coda con priorità in cardinalità praticamente corrisponde a s a i vertici raggiungibili poi abbiamo l'innesco dell'algoritmo è inserisci in questa coda con priorità inserisci nella nella frontiera inserisci la sorgente con priorità zero perché quella la distanza effettivamente che c'è tra sorgente e se stesso quindi questa è la fase di inizializzazione l'algoritmo viene vero e proprio è di fatto l'applicazione di nuovo della malità extra però c'è una modifica che quella che diremo dopo quindi l'applicazione della malità extra è la seguente e finché ci sono elementi nella frontiera quindi finché praticamente non è terminato non ho costruito tutto l'albero dei cammini minimi estraggo dalla coda con priorità l'elemento a priorità minima cioè quello che minimizza la quantità di su di v quella insomma la quantità di su di su più v di uv cioè la quantità dell'emma di da extra quindi questo è l'emma di da extra e in effetti funziona non guardate la figura perché tanto poi facciamo una simulazione grafica l'importante è capire più o meno che cosa significano queste righe quindi un ciclo che sarà un ciclo che quante interazioni avrà di nuovo quando è che la frontiera si svuota e quando non ci sono più nodi raggiungibili se questo un grafo connesso n nel caso peggiore graffa e connesso molto spesso anzi graffa e connesso quindi n quindi questo è un ciclo di n ok quindi per n volte io estraggo l'arco di costo minimo però l'arco di costo minimo si estraggo il nodo che ha associata una priorità più piccola che corrisponde quindi ad avere estratto l'arco di costo minimo che incide su quella su quell'albero quindi dopo devo chiedermi a questo punto per ogni arco che mi connette dal dall'interno all'esterno ci sono due possibilità quindi questa è la fase di analisi degli archi che connettono l'arbero parziale con l'esterno ci sono due casi o non l'ho mai scoperto cioè la prima volta che scopro quell'arco ovvero diciamo meglio è la prima volta che scopro una strada per arrivare a v quindi questo per ogni arco v significa due cose possibilità due possibilità o è la prima volta che ho scoperto un modo per arrivare a v e la cosa mi raccolgo che la prima volta che la distanza tra s e v è più infinito quindi mai prima d'ora avevo trovato una strada per arrivare a v beh se è la prima volta non c'è altro da fare che inserire nella coda con priorità inseriamo il nodo v che abbiamo scoperto adesso per la prima volta e lo inseriamo con la distanza che conosciamo in questo momento quindi la distanza per arrivare a u perché stiamo considerando l'arco v più il peso dell'arco v e ovviamente aggiorniamo anche la distanza nel vettore delle distanze poi rendi u padre di v in t significa che noi dobbiamo anche costruire l'albero dei cammini minimi quindi stiamo dicendo che in questo momento abbiamo trovato una strada che passa da u per arrivare a v quindi abbiamo reso u padre di v nell'albero t cappello però questo era il caso in cui non non avevamo mai scoperto quel una strada per arrivare a quel nodo se invece quindi se non vale la if significa che la distanza per arrivare a quel nodo è diverso da più infinito se è diverso da più infinito significa che prima avevamo già scoperto una strada adesso stiamo scoprendo un'altra strada e che possibilità ci sono potrebbe succedere che la nuova strada cioè quella che passa per uv è nuova rispetto a prima è più conveniente rispetto ad un'altra strada che significa più conveniente che passando da u e andando a v la distanza quindi di sv passando dall'arco v è minore della distanza di sv che conoscevo prima se è così significa che ho trovato un modo migliore una strada migliore per arrivare a v quindi devo fare il decryski nella coda con priorità dicendo la coda con priorità guarda ho scoperto una strada migliore quindi per arrivare a quel nodo v adesso ci sono dieci minuti in meno quindi decrementa di dieci minuti per esempio la tempo di percorrenza aggiorna il vettore delle distanze e aggiorna anche l'albero dei cammini minimi rendi un nuovo padre di v in t cappello quello che non avveniva prima nell'algoritmo di da extra tradizionale l'algoritmo di da extra tradizionale andava a colpo sicuro estrago un arco quello è sicuramente l'arco migliore non verrà mai sostituito nell'albero dei cammini minimi qui invece noi scopriamo le cose mano mano quindi inizialmente mettiamo nel nostro albero dei cammini minimi un arco che magari non è ottimale poi però ne scopriamo un altro che è ottimale e lo sostituiamo quindi c'è una fase di scoperta graduale della situazione mentre nel caso di da extra tradizionale questo non avveniva si estraeva di colpo l'arco migliore però qual era il costo di quell'approccio di esaminare tutti gli archi quindi avevo un costo sì è vero che andavo a colpo sicuro ma dovevo esaminarli tutti quanti solo dopo ex post a posteriori decidere quale arco inserire invece qua non è una posteriori scopro un arco non ci sono mai arrivato fino a quel momento v lo metto dentro l'albero dei cammini minimi poi qualcun altro dopo se scoprirà una strada migliore aggiornerà la strada migliore quindi questo è un approccio per certi versi un po più pigro un po più greedy addirittura perché mentre approccio precedente si esaminavano tutti gli archi e si trovava quello di costo minimo quindi era un minimo globale qui un minimo locale cioè scopro un arco lo metto poi arriverà qualcun altro e migliore lo sostituisce qualcun altro ancora migliore e quale problema sostituisce un'altra volta quindi questo è un algoritmo ancora più greedy rispetto a prima quindi più locale più pigro in un certo senso però tutto ancora funziona perché c'è una coda con priorità che ci garantisce che quando andremo ad estrarre l'arco ovvero il nodo di costo minimo quello sarà in quel momento di tutti i vertici incidenti di tutti i vertici coinvolti negli archi incidenti sul nostro abito di cammini minimi quello sarà comunque l'arco di costo minimo ragazzi non c'è altro da fare che provare una simulazione grafica e io non ho mai chiesto questo algoritmo di da extra in un orale chiedo caso mai quello di base per capire se avete capito da extra questo algoritmo è più complicato perché dovete sicuramente disegnare una coda con priorità ricordarvi un codice a me non piace quando si studia il codice memoria non ve lo chiedo questa cosa qui però ciò nonostante è meglio che comunque la capiamo quindi facciamo una simulazione grafica e insomma un po' vediamo se rimane tempo per fare qualcos'altro comunque già solo questa simulazione grafica sono qualche 20 30 slide quindi capite che è un algoritmo abbastanza complesso allora sia dato il grafo in figura pesato orientato con vettore delle distanze misterizzato a più infinito tranne la sorgente che potremmo essere il nodo a occhio che la sorgente può essere un qualunque nodo ma va scelto cioè quello che stiamo vedendo è l'esecuzione di da extra per sorgente uguale da ma se fosse stata un'altra sorgente l'algoritmo avrebbe avuto un altro esito un altro possibilmente albero dei cammini minimi quindi l'albero dei cammini minimi è strettamente legato alla sorgente cambiare la sorgente significa che anche l'albero dei cammini minimi cambierà bene quindi l'inizializzazione vuole che nella coda con priorità ci finisca in questo momento solamente il nodo a con distanza zero che significa che dal mio albero dei cammini minimi che in questo momento è vuoto posso andare in un solo nodo che ha appunto con distanza zero perché è il nodo in cui parto quindi vedete che comunque ha una sua contezza cioè funziona anche considerando partendo dall'albero vuoto con la sola sorgente inserita nell'albero quindi estraiamo il nodo più facilmente raggiungibile che in questo momento è solo uno quindi a e cominciamo ad analizzare tutti gli archi che incidono a questo punto sul nostro albero dei cammini minimi parziale che è formato solo da cominciamo ad analizzarli uno a uno ecco se fosse stato il da extra di prima avremmo dovuto analizzarli tutti scegliendo quello di costo minimo quindi sarebbe stato un ciclo for come questo ma non con queste if sarebbe stato una sorta di minimo come quando calcolate il minimo quindi calcolate per ognuno di quelli la quantità poi alla fine dite qual è quello che vi costo minimo aggiornate il minimo di volta che lo trovate e poi alla fine dite questo è quello di costo minimo però l'avete analizzati tutti mentre in questo caso vediamo che gli archi poi diciamo dopo quando parliamo di complessità computazionale è possibile guadagnare qualcosa rispetto rispetto a prima va bene allora analizziamo l'arco a b inizialmente non abbiamo mai fino adesso a b la distanza da a b è più infinito quindi a b non ci siamo mai arrivati pertanto dobbiamo possiamo far altro che inserire l'arco a b ovvero il nodo b nella coda con priorità con la distanza alla quale con la quale ci arriviamo cioè 7 e quindi vabbè niente da fare rendi u padre di v in t quindi si adesso a è diventato padre di b questo è il nostro albero parziale dei cammini minimi bene secondo nodo è la stessa cosa perché di nuovo a in cino e non ci siamo mai arrivati perché era più infinito quindi aggiorniamo il vettore di distanza anche prima mi sono dimenticato ma l'abbiamo aggiornato inseriamoci nella coda con priorità lo inseriamo con la distanza che scopriamo da questo arco 14 e notate che la coda con priorità ha una sua è ordinata ovviamente dietro qua c'è un albero c'è un ip uno a rigore dovrebbe disegnare lì però possiamo stare disegniamo semplicemente una sequenza ordinata di nodi con le loro rispettive priorità e vabbè poi di la stessa cosa ma ci siamo capiti di 30 alla fine si mette alla fine e questo è ok adesso abbiamo esaurito tutti gli archi che partono da u quindi prossima alterazione di da extra vado a selezionare l'arco di costo minimo in questo caso mi dice il nodo b perché devo scegliere il nodo b che sta in testa la coda con priorità cioè di priorità minima e lo scelgo e lo considero adesso nel nostro ciclo u v quindi adesso mi chiedo quali sono gli archi da b verso verso l'esterno gli archi sono f sono sì ok sono sicuramente verso c magari adesso è fatto prima c e poi fa f ok va bene prima c l'ordine ovviamente arbitrario dipende uno come come decide io volevo fare prima f però nelle slide c'è prima c ok quindi primo nodo che mi porta da b verso l'esterno e c ora che succede ragazzi guardate che succede c la distanza verso c non è più infinito quindi io a c significa che c'ero già arrivato in precedenza in effetti si ce lo ricordiamo pertanto non si attiverà questa parte questa info ma si attiverà quest'altra cioè per caso non è detto che si attivi è però a meno dobbiamo verificarla per caso per arrivare a c tu sapevi che per arrivare a c ci vuole 14 lo sapevi da prima adesso ti sto dicendo che da b ci si può arrivare tramite dsu cioè da distanza per arrivare a b cioè 7 più il costo dell'arco che 6 7 più 6 fa 13 13 è minore di 14 quindi abbiamo scoperto un arco migliore una strada migliore se è così allora dobbiamo fare un decrischi di c dicendogli che adesso la sua priorità diventa 13 e anche ovviamente la sua distanza del vettore diventa 13 e anche il albero dei cammini minimi adesso ci sta una parte nera che nessuno toccherà mai ma ci sta una parte una parte magenta in questo caso che quella relativa a nodi che ancora non ho estratto dalla 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 coda significa che ancora non sono sicuro che quella sia la strada migliore per arrivarci infatti in questo momento abbiamo scoperto una strada migliore perché adesso dobbiamo rendere u cioè b nuovo padre di v cioè c in t quindi adesso abbiamo quest'altra strada vedete questo è un caso in cui l'albero dei cammini minimi è questo parziale ma sicuro nessuno lo tocca più questa parte in magenta ovvero questa parte totale sarebbe t cappello che è il labbero parziale dei cammini minimi con una parte quella viola quella magenta stimata che però può essere anche ritoccata durante l'algoritmo quindi abbiamo scoperto una strada migliore e l'abbiamo inclusa a questo punto c'è un altro però arco quindi nodo f però questo f non ci siamo mai andati prima perché è più infinito quindi dobbiamo semplicemente mettere nella nostra coda con priorità con la distanza per arrivarci la distanza per arrivarci è di ab cioè sette più l'arco che è zero quindi è sette e lo mettiamo dentro la coda con priorità aggiorniamo la distanza rendiamo b padre di f e chi lo sa se questo sarà un arco finale cioè diventerà nero oppure si troverà la strada migliore questo non è dato saperlo in questo momento a questo punto dobbiamo estrarre il primo nodo nella coda con priorità quella priorità minima quindi f ecco il momento in cui lo estraiamo significa che questa adesso questo nodo diventa far parte del nostro albero sicuro dei cammini minimi quindi questo arco diventa nero quindi questo diventa il nostro il nostro t e adesso dobbiamo abbiamo estratto f dobbiamo considerare tutti gli atti che sono incidenti che escono da f e ci portano all'esterno ce n'è solo uno g g è più infinito quindi gioco forza g dovrà essere inserito nella coda con priorità con distanza pari a sette più l'arco 4 quindi 11 e in effetti è quello che succede niente di straordinario si aggiunge anche il l'arco all'albero e si va avanti si estrarrà il prossimo adesso nodo perché non ci sono più archi da esaminare il prossimo nodo è proprio g e in effetti g adesso entra a far parte del nostro t senza cappello quanti archi partono da g e nessuno e quindi niente si estrae quindi il prossimo nodo che sarà c c si estrae e quanti archi partono da c e vanno verso l'esterno e nessuno di questi c'è questo verso e e l'esterno quindi è è un arco che viene considerato ma la distanza che va verso e più infinito quindi è un arco che non ho mai è un nodo che non ho mai considerato non ci sono mai arrivato quindi verrà aggiunto alla coda con priorità con priorità pari a distanza verso c che è 13 il costo dell'arco che è 1 quindi 14 e quindi e viene dato 14 nel vettore delle distanze e inserito nella coda con priorità con priorità 14 a questo punto non ci sono altri archi che escono da c quindi estraggo il primo nodo della coda con priorità che è non ci sono altri archi che mi consentono da e di andare verso l'esterno quindi estraggo l'ultimo nodo rimasto ovvero di non ci sono archi che vanno verso l'esterno in particolare sono finiti nodi quindi la frontiera è vuota e l'algoritmo è terminato quindi questo è l'albero finale dei cammini minimi bene vediamo adesso quanto costa questo 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 approccio allora guardando il codice abbiamo eseguito abbiamo detto che questo ciclo esterno è lungo n perché perché stiamo trovando i cammini minimi da una sorgente verso tutti i nodi i nodi sono n la frontiera si svuota quando non ci sono più nodi raggiungibili ovvero come di tema se l'arco non è connesso non è detto che se n e vabbè nel caso peggiore connesso e comunque molto spesso gli altri grafi sono connessi quindi gioco forza troverò tutti i nodi in questo ciclo quindi n per delitmin quindi n delitmin e vabbè n delitmin poi sarei tentato di dire che questo è un ciclo di m e quindi sarei tentato di dire che ci sono m inserimenti però non è così perché non è così perché gli inserimenti vengono fatti soltanto quando io scopro per la prima volta vedete io non inserisco gli archi quindi è vero che questo è un ciclo su tutti gli archi ma bisogna fare attenzione che c'è una if che ci dice che solo se non ho mai considerato quel modo quindi è un ragionamento sui nodi non sugli archi allora devo inserire quel modo nella quota con probabilità quindi i nodi sono n quindi n inserimenti allora questo punto quanti decrischi si fanno quanti quindi si fanno n delitmin n inserimenti quanti decrischi si fanno e quanti se ne faranno nel caso peggiore i decrischi si fanno quando io ho inserito nel nostro la nostra quota con priorità delle distanze dei nodi relative ad archi non ottimali quindi è il solito discorso di prima nel caso peggiore quanti archi non ottimali ci sono m meno n quindi se sono molto sfortunato nella mia quota con priorità ho inserito sempre spazzatura e devo sempre stare a correggere a correggere a correggere nel caso peggiore quante correzioni faccio nel caso peggiore m meno n quindi m meno n decrischi quindi ciò n delitmin n insert m meno n decrischi a questo punto dobbiamo decidere come implementare la nostra coda con priorità se implementiamo con gli ip binari gli ip binari hanno praticamente tutti i logaritmi base 2 n numero di nodi tranne find min ma noi non facciamo find min noi facciamo delitmin e facciamo decrischi e facciamo insert quindi tutti i logaritmi in base 2 di n quindi abbiamo n logaritmo in base 2 di n più n logaritmo base 2 di n più anzi meno n logaritmo base 2 di n diciamo che si cancella tra virgolette rispetto a questo n ma ce n'è comunque un altro di n logaritmo base 2 di n e poi abbiamo m per logaritmo in base 2 di n quindi m più n per logaritmo in base 2 di n quindi m più n per logaritmo in base 2 di n ora quanto è questo costo è un costo buono o è un costo non buono prima avevamo m per n ora ragazzi m per n è una moltiplicazione è grosso m per n nel caso peggiore in cui m n quadro stiamo parlando di n quadro per n cioè n cubo è un costo esorbitante invece qui è m più n logaritmo in base 2 di n ora che il logaritmo in base 2 sia di n ci fa molto piacere perché il numero di nodi è molto 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 minore del numero di archi in generale può essere addirittura un confronto tra n ed n quadro numero di archi nel caso peggiore di grafo completo quindi siamo molto contenti che ci sia n nel logaritmo anzi diciamo diciamo meglio quanti nodi ci posso stare nella nostra mega rete sociale o rete di calcolatori o rete stradale miliardi qual è il problema il logaritmo in base 2 di miliardi sono decine anzi meno di decine diciamo di miliardi di miliardi proprio per essere proprio per abbondare stiamo parlando di un numero a una cifra o al più a due cifre che moltiplica una somma di m più n la somma di m più n ci ricorda l'algoritmo topologico era proprio m più n la complessità qui è m più n che moltiplica qualcosa che possiamo alla fine in pratica minorare con una costante quindi questa complessità è comunque molto molto buona è decisamente migliore rispetto a bernard ford possiamo fare ancora di meglio perché possiamo fare di meglio perché se usiamo gli ip di fibonacci che però sono complessi quindi non vi spiego e vabbè però è importante sapere che esistono perché c'è qualcuno che dopo un po di anni rispetto all'uscita di questo algoritmo di da extra o da extra quando è uscito questa complessità usava gli ip binari e ancora oggi molte implementazioni di da extra utilizzano gli ip binari semplicemente perché i binari sono facili da gestire facili da 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 implementare ci sono però degli ip particolari che sono stati inventati un bel po di anni dopo rispetto a all'uscita dell'algoritmo di da extra che hanno come caratteristica quella di avere un decrischi o di 1 quindi le cose cambiano perché adesso abbiamo n log n più n log n e vabbè n log n più n log n fa n log n nella aritmetica aritmetica della delle complessità sintotiche più m però di 1 meno n però di 1 quindi più m meno n ora il meno n vabbè c'hai n log n meno n il meno nel caso peggiore non te lo devi portare dietro quindi abbiamo m più n log n il meno n non viene comunque minorato rispetto a m più grande di n quindi il meno n non entra nella complessità sappiamo però che c'è anche questo meno n quindi ancora più conveniente di m più n log n questa è la complessità che appare nei libri che appare nelle copertine ed è dimostrato essere la complessità ottimale del problema dei cammini minimi su grafi con costi non negativi quindi significa che è stato matematicamente dimostrato che non è possibile far meglio di così quindi vedete come si coniugano l'algoritmo di la extra sui grafi con gli ip che sono degli alberi code con priorità si mettono insieme e fanno quella che è la complessità ottimale cioè matematicamente dimostrabile che non si può fare di meglio e questa è la complessità finale diciamo migliore che può fornire da extra m più n logaritmo in base 2 di n che cosa ci abbia guadagnato e ci abbiamo guadagnato un qua c'è m qua c'è m log n quindi qua c'è m che moltiplica 20 per esempio qua c'è m basta perché poi n log n appare anche qui quindi abbiamo moltiplicato abbiamo guadagnato un 1 che moltiplica m al posto di logaritmo in base 2 di n che nella pratica diciamo che è comunque un numero piccolo 20 volte 20 volte beh ragazzi 20 volte significa 20 volte più veloce cioè non diciamo non non diamo per scontato che queste due cose siano del tutto simili un algoritmo che 20 volte più veloce fa la differenza tra un navigatore che impiega un minuto per trovare la strada più veloce è un altro che impiega un ventesimo di un minuto quindi impiega tre secondi c'è una bella differenza tra tre secondi e un minuto quindi comunque nella pratica ricordiamoci sempre che queste sono complessità sintotiche e che sebbene tra di loro si assumino a meno di termini che diciamo potrebbero essere trascurabili nella realtà poi questi comunque sono più veloci e anche di parecchio stiamo parlando anche di 10 20 volte più veloci 30 volte più veloci e quindi da extra con i per i fiumonacci è sicuramente il più veloce bene ragazzi io terminerei qui se avete delle domande sono disponibile e domani dobbiamo affrontare l'ultimo algoritmo del corso che poi quello che utilizzeremo in pacman e e lo implementeremo quindi domani affrontiamo questo magari iniziamo l'implementazione che poi termineremo giovedì e finiremo il corso giovedì con il nostro pacman poveretto che grazie a teori di grafica grazie a questi algoritmi si ritrova praticamente in trappola io giocherò pacman e non riuscirò speriamo che io non riesca a scamparmela rispetto a blinky che mi insegue utilizzando i cammini minimi di fred walshaw ok interrompo la registrazione